amici e amiche del museo del grande torino e della leggenda granata benvenuti qui vedete inquadrato il libro il primo libro di alessandro oppi per gli amici salvatico le altre volte vi è andata bene con elena rossini simona cavallo questa volta vi dice male perché ci sono io abbiamo qui come detto alessandro alessandro perché un libro sui derby c'è qualcosa di nuovo in questo libro allora intanto dice male a me oltre a chi guarda il video è chiaro specialmente a me e dico che libro l'ho scritto in compagnia di romeo resti raro esempio di scrittore juventino alfabetizzato juventino alfabetizzato diciamo sì 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 il libro racconta una selezione di derby di questo derby che è il più antico d'italia secondo noi è il più bello perché ha una caratteristica che lo differenzia tutti gli altri cioè un derby storicamente impari mentre lazio roma inter milan genoa sampdoria più o meno sono squadre che si equivalgono in quanto a trofei juve toro vivono in due pianeti diversi eppure la loro storia non è così squilibrata in quanto in quanto successi questo dimostra che una partita davvero particolare al di là di quello che si dice noi abbiamo cercato di raccontare qualcosa di nuovo di ogni singola partita l'abbiamo sviscerata l'abbiamo approfondita l'abbiamo fatta raccontare dagli stessi protagonisti cercando di portare alla luce qualche dettaglio qualche nota di colore qualche parola che magari non tutti sapessero di tutti questi derby se ce n'è uno che puoi scegliere che lo senti più tuo degli altri qual è è una domanda difficile io sceglierei il derby che il torino si aggiudica per il 2 a 0 nel 1992 con doppietta di Walter Casagrande perché viene a distanza di pochi giorni dalla semifinale di Coppa UEFA contro il Real Madrid è stato un momento in cui davvero mi sono illuso che il toro fosse una grande e potesse anche restarlo è stata un'illusione ma i derby sono partite sono momenti sono effettivamente momenti di 90 minuti quindi sono momenti in cui possiamo anche concederci il diritto di illuderci e poi dopo ci scontriamo con la realtà ma se li andiamo a rileggere nel libro magari ci rituffiamo un momento nei ricordi piacevoli li possiamo rivivere nella loro interezza certamente allora ricordiamo il titolo del libro che la grande storia dei derby torino juventus fa parte di una collana che edita da e dove possiamo trovare il libro allora si edita da edizioni della sera che è un editore romano il quale ha iniziato appunto una catena una una collana diciamo dei libri sui derby partendo da Roma poi Milano poi Torino fra poco arrivere a Genova poi Palermo Catania e così via sul sito www.edizionedellasera.com tutte le indicazioni comunque nella stragrande maggioranza delle librerie sicuramente da Feltrinelli e da FNAC ma anche molte librerie indipendenti si trova già da qualche giorno e ci rimarrà spero il meno tempo possibile nel senso che che vada esaurito il più in fretta possibile esatto speriamo perfetto grazie mille oppi di essere venuto da noi e grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti